Musica 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 quanti che vogliono andare a scuola Non lo sarei mai aspettato Ehm Tu Par shoes Facciamo una domanda lì Hai un po'Рusciati Domanda Ok Dimmi Che lo passi te loет Grazie Marco Fate una cosa anche a Raffaele E' l'assistente Amore Suiziamo boost Un撲 Un'angelo Sei un mito La domanda Ma me lo sta chiedendo Grazie Allora Qual è Io volevo sapere Qual è la cosa Che vi piace di più Di Fabi La collana Secondo me è la collana Quando fai video cos'è Quando Quando impazzisce Ma anche loro Nelle camerette impazziscono Io te lo spiego Perché loro piace quando io mi spavento Allora mi consigliano giochi perché io mi possa spaventare Sono persone che io posso stimare Perché veramente mi rendono la giornata migliore Cioè la sera io prima di andare a dormire Devo giocare cos'è horror Perché loro vogliono vedermi spaventato Quindi sono fantastici Tu non dormi da anni Io non dormo più Sono spesso di dormire Grazie a loro Grazie ragazzi Non dormo più Allora Io vorrei fare un gioco con tutti loro Adesso Prenderemo tre persone Le faremo salire qua E le faremo spaventare invitando FabiJ Siete in grado? Io non sarei in grado di farlo Però vabbè E tu dovrai scegliere il migliore o la migliore Tipo giudice? Esatto Bellissimo Siete in grado di farlo Io c'è tipo Scegliamo per questo tipo Italia's Got Talent Bravo Facciamo Perugia's Got Talent Ok E il talento è quello dello spaventro di FabiJ Scegli tre persone Scegli tu Sarà facilissimo Vedo più cellulare che persone Tra l'altro Dimmi Prendiamo Io prenderei Sì Quella con gli occhiali Sì Ci sta Sali qua con noi un attimo Tu con questi occhiali Sali qua con noi Abbiamo bisogno di te Questa è la prima Che c'hai? Che ti sei portata? Stretta di mano Saluto Baccio Certo Lorenzo E più o meno la reazione del suo amico Della stessa Poi prendiamo anche un ragazzo Prendiamo anche un ragazzo Ragazzi Vediamo un po' Eh devo prendere da qua perché sennò Ti ha fatto il book? Avete fatto il book? Il calendario è vendita Guarda c'è un gioco da fare eh È importante Sei emozionata? Come ti chiami? Marta Ciao Marta Tranquilla Mettiti lì Fate un applauso a Marta Mi prendiamo da qua Mi prendiamo velocemente da qua Devo scegliere io? Ma perché io ho questa? Perché devo essere io? Perché sono statici Ma perché Eh ragazzo Non so Io mi sento Non posso scegliere io Ciao Ciao piacere Cioè è così che ci si presenta oggi Sì però hai scelto solo donne Scegliamo un ragazzo da qua Vuoi salire te? Dai vedi se riesce a passare Fatti aiutare Aspetta Facciamo un test Funziona È bellissimo Vabbè dai Di più di più Un altro fa È salito Scegli la mano Vai Bravo Allora Vai 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 Un selfie bellissimo Allora foto a me fai? Allora non insieme Ok Se mi fa la fatta Si è scaricato il telefono Un applauso al telefono Che è molto Fantastico Allora Abbiamo Che fai? Allora Accomodati Bellissimo Bellissimo Allora il gioco è semplice Voi dovete imitarlo Quando si spaventa Possiamo farlo no? Adesso lo stiamo all'imastro Io faccio non da fare niente E lui sceglierà il vincitore E lui sceglierà il vincitore Tu riprendi con il cazzolettino Si sa che guardi quanto mi danno queste cinti E effetto lo fanno La fisina è effetto è vero Perché io do le ginocchiate sulla scrivere Bisogna dare proprio le ginocchiate Fino a farsi male Se no non funziona Devi proprio urlare di dolore Se no non funziona Allora sei pronta? Improvvisa dai Ok allora Pronta Vai Non parli Lo fai a mimo A mimo Va bene Vediamo come fa Questo è maltrattamento di tavolini Mi sa Ce l'ha andata vicinissima Ce l'ha andata vicinissima Ce l'ha C'è Applauso Applauso Tocca a te E ti chiami? Chiara Ciao Chiara Ti devi spaventare Ti devi spaventare Anche questo è andata vicino Va benissimo Ma me lo fai rivedere che E allora Allora Brava Terzo Campione Come ti chiami? Alessandro Vai Alessandro E lui è anche la tigra sulla maglietta Vediamo come chi vince Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ha vinto lui Ha vinto Alessandro Ha vinto lui Un grande Ha vinto lui Alessandro Campione Io faccio complimenti anche alle signorine Fate un applauso Bravo Grazie Ragazzi mi sono dimenticati di dirvi che ovviamente se volete poi fotograffi la facciamo tutti Quindi state tranquilli Grazie a tutti Grazie a tutti